Ciao, ecco qui una voce del cuore per la serata. E se è un bambino o una bambina, ancora meglio. E se è un bambino o una bambina. E se è un bambino o una bambina, ancora meglio. E se è un bambino o una bambina. E se è un bambino o una bambina. E se è un bambino o una bambina. E se è un bambino. E se è un bambino o una bambina. E se è un bambino. E se è un bambino o una bambina. E se è un bambino. E se è un bambino o una bambina. E se qualcuno ancora non conosce la voce del cuore e volete saperne di più potete consultare il sito www.annachiarafarneti.it Buona serata a tutti, con amore, da me e il mio bambino. Grazie. Grazie. Grazie.